La luce che se ne sta andando e non so se durerà per tutto il video rappresenta il mio problema in questo periodo La mancanza di tempo Ciao Cactus, benvenuti e bentornati in questo nuovo video Come state? Come state che da un po' che non ci sentiamo? Se mi seguite su Instagram sapete che sono sparita un po' anche da lì Ma vi ho avvertiti che questi ultimi mesi, questo ultimo mese, ormai ultimi giorni Saranno un gran casino Perché tutto si stia svolgendo e che quindi a gennaio le cose cambieranno un po' Io sono molto contenta ma al momento sto per morire Ma come potevo esimermi dal fare il nostro giro di boa con 5 libri che devi leggere questo inverno Prima di partire però vi confermo che in queste ultime settimane non ho la più pallida idea di quando usciranno video Perché non ho tempo neanche per piangere Considerando che è una delle mie attività preferite vuol dire che ho veramente poco tempo E che dire Visto che il tempo è così buio, così freddo in questo periodo Ho deciso che i miei 5 libri, visto che ne ho già fatti 300 I miei 5 libri a questo giro di boa saranno per il Dark Winter 5 romanzi estremamente oscuri o che hanno qualcosa di oscuro e nascosto Che è anche ovviamente come sapete la mia letteratura preferita E quindi che dire, volevo condividerli con voi Come sempre se siete nuovi, se questo è il primo video della saga che vedete Intanto avete l'impossibile da recuperare E poi libri che ci ricordano l'inverno possono essere libri ambientati in inverno Libri che ci sembrano perfetti per l'inverno o la stagione Perché sono freddi un po' che hanno le caratteristiche della stagione Oppure perché semplicemente in qualche modo ce lo ricordano È estremamente soggettivo Buono sto te Partiamo subito con il primo che ho finito di leggere poco tempo fa E che ha l'inverno nel titolo, quindi non si può sbagliare Ed è Il viaggio d'inverno di Amelino Tomb Amelino Tomb mi fa impazzire Perché sapete che è una delle mie scrittrici preferite Ma tipo questo romanzo, Il viaggio d'inverno Io l'ho letto in digitale, quindi non ho visto la copertina E ad averla vista forse avrei potuto localizzarlo meglio Invece Il viaggio d'inverno Aveva questa modalità che non assomiglia assolutamente al romanzo Quando vi dico che non c'entra niente con quello che mi ero immaginata Perché tra l'altro ve lo posso spoilerare Tra virgolette perché viene scritto nelle primissime pagine del libro Tratta di un uomo Per vari motivi, comprensibili o no Ha deciso di dirottare un aereo e uccidere tutti quelli che saranno a bordo Così si apre il romanzo Con lui nella sala d'attesa racconta il suo piano a un pezzo di carta che nessuno leggerà male Perché esploderà con lui Era quello che vi immaginavate? Perché io no Non è la stagione che accoglie tutto il romanzo Devo dire che è incredibile Anche se il finale è forse il più insoddisfacente Nella notomb Anche se è coerente con la storia Ha senso? Ha senso? Non lo so Questo video esce il 18 sera Il 19 sera Quindi avete pochissimi giorni per finire i regali di Natale Io personalmente non li ho finiti alla fine Che è un po' un problema Visto che sono stata assente per un po' Ottimizzo i tempi Ovviamente come al solito Io ho sempre il mio Daniel Wellington preferito Mi scrivete nei DM e io vi rispondo sempre Come se avete bisogno di consigli Sono qui per ricordarvi che Daniel Wellington Ha gli sconti natalini E agli sconti natalini Potete aggiungere anche il mio 15% di sconto Tra l'altro L'altro giorno sono finita sul sito A vedere gli articoli in saldo E ci sono i miei preferiti L'Iconic Lui Questo insieme all'Iconic è uno in assoluto dei miei preferiti Adoro questi orologi in oro O comunque con il cinturino metallico Sono i miei preferiti in assoluto E lo sapete Mi rivedete in tutti i video Quindi mi raccomando Se avete bisogno di fare i regali Se dovete comprare Daniel Wellington Non prendeteli a prezzo pieno Ma avete il mio codice sconto valido Tutto l'anno Cumulabile con qualunque offerta Voi abbiate sul sito al momento Ma andiamo avanti Voglio la tazza per parlarvi di uno dei libri Che mi è piaciuto più di quest'anno Spoiler Devo farvi anche la top 10 2022 Ed è questo mattoncino qui Digitale anche qui Questo l'ho comprato dopo averlo letto in digitale Perché A In cartaccio subito non c'era B Mi è piaciuto troppo per non averlo effettivamente fisico in libreria Brotesche di Natsukirino Che è sicuramente più famosa Per le quattro casalinghe di Tokyo Ma io ho iniziato con questo Non per un motivo particolare Semplicemente mi attirava la trama E non sono rimasta delusa Perché è uno dei romanzi Più nelle mie corde che io abbia mai letto Per quanto riguarda l'inverno La parte finale del romanzo Anche quella un po' più adulta Quasi verso la vecchiaia È ambientata in momenti gelidi Freddissimi Non solo esterni ma anche dell'animo umano Quindi per me è perfetto Tutto il romanzo è fereddo Cioè proprio gelido dentro Perché ha dei personaggi insalvabili Ovvero Proprio oscuri Ironicamente molto simili all'Anno Tomb Dove si tratta di due sorelle Una è nata bellissima Per nessuna motivazione C'è proprio una questione di casualità Visto che i genitori non sono particolarmente belli Mentre l'altra che è La protagonista per parte del romanzo O meglio la narratrice È nella media Quello che vi posso dire Che è un romanzo estremamente pesante Si parla di argomenti come prostituzione Si parla di argomenti come sessualità esplicita E soprattutto se ne parla con una crudeltà Che è spaventosa Ed è affascinante Perché a un certo punto Il punto di vista è A un certo punto Il racconto Va Vira Passa all'altra sorella E vediamo in conclusione Entrambe le strade E credibilmente Non sai a chi credere Cioè non sai Esattamente dove sia la verità Perfettamente quello che succede Nella vita normale Ovvero Che tutti abbiamo la propria narrazione E a volte non combacia Con quello che è l'una e l'altra Anche se i fatti sono gli stessi Perché i sentimenti All'interno della stessa situazione Erano diversi È estremamente crudo Se mi conoscete Sapete che cosa intendo Non è proprio per tutti E vi anticipo Che c'è una parte di diari Di un killer Che è noiosissima Che vi consiglio personalmente Di saltare Perché non porta nulla alla trama Torto quello Per me è un romanzo Quasi perfetto Ovviamente sono gusti Ve lo consiglio Io Forti Proprio fortissimo Però Sappiate che Affronta delle tematiche In un modo molto molto esplicito Quindi vabbè Passiamo al terzo libro Per la continua saga Mi agio nel disagio Sera spenta La telecamera Ma noi siamo ancora qui E quindi andiamo avanti Col prossimo libro Il prossimo libro È un colpo al cuore Per me Perché non riesco più a trovarlo Ed essendo uno Dei miei libri preferiti Di cui vi ho parlato Molto poco Sul canale Questa cosa mi distrugge Spero veramente Che riesca Da qualche parte Della boutique Del mistero Di Dino Buzzati Che sapete Essere uno dei miei Scrittori In sordina Preferiti Ma secondo me Tra tutto quello Che ho detto di lui La boutique Del mistero È quel libro Che se amate leggere Dovete leggere Perché ve lo dico Perché Trovo che dopo tanti anni Rimanga la raccolta Di racconti Quanti è R In questa frase Che bella Che io abbia mai letto Ok Non è la categoria Di romanzi Che Cioè di libri Che mi piace di più Però Trovo che All'interno Ci siano Sempre I racconti Più potenti Che In un certo senso Mi insegnano Proprio a scrivere Buzzati È oggettivamente bravissimo Qui dal meglio Emotivamente È forse il libro Che mi ha dato di più Anche se Anche il deserto dei tartari Mi è abbastanza distrutta I sette piani Le gobbe Cioè si tratta Di argomenti Veramente complessi E pesanti Degli immaginari Impagabili Abbastanza pesanti Li ricollega A una giornata Molto fredda Quasi piovosa Invernale E mi sembra perfetto Per questo periodo Ultimi due romanzi In realtà Un po' si Autoraccontano E uno è in lettura In questo momento Quindi vi so dire Uno è Shining Perché Come Quando ho pensato La lista di libri Dark Per questo inverno Non potevo Non inserire Shining È semplicemente La perfezione Fatta a romanzo Tratto Tra l'altro Secondo me In questo tema Secondo me Il film è Stufefacente E rimane uno Dei miei libri Preferiti di King Anche questo Parla in sordina Perché comunque È molto Molto lungo E devo dire Che forse Preferisco il film Per tante ragioni Ma Shining È un'opera Incredibile Io personalmente Lo preferisco A It Anche proprio Per la location L'hotel Il freddo Il gelo Questa scenografia Inquietante Di questi corridoi Secondo me È Incredibile E soprattutto Perfetta Per questa lista L'ultimo romanzo In realtà Aspetta che Voglio leggere L'incipit È Memoria di una casa morta Di Dostoyevsky Che tra l'altro Memoria di una casa morta Prima si chiamava Memoria di una casa di morti O comunque Siamo lì lì È stato rinominato Ma lo trovate È lo stesso romanzo E l'ho iniziato a leggere adesso Uno perché Romanzi russi Natale Inverno Così Due perché Avevo proprio voglia Di Dostoyevsky Ma non mi riesco a trovare Con i demoni Forse perché è un romanzo Troppo complesso In questo momento Ho iniziato La casa Memoria di una casa morta Che non riesco a capire Nel mio cervello Cosa un romanzo Su la situazione Psicofisica Dei condannati In un campo siberiano Possa essere più leggero Però oggettivamente Mi sta pesando Molto meno E Per quanto io sia All'inizio Lo trovo scritto In una maniera magistrale Forse era da un po' Che non leggevo Dostoyevsky E mi ero dimenticata Di quanto fosse bravo Ma voglio leggervi Proprio Come apre la scena Dostoyevsky Nella primissima parte Il nostro reclusorio Era situato all'estremità Della fortezza Proprio accanto Al bastione del forte Se mai ti capitava Di guardare il creato Attraverso le fessure Della palizzata Chissà se non si potesse Scorgere qualcosa Non vedevi Se non un piccolo lembo Di cielo E l'alto bastione Di terra Coperto di erbacce Mentre su e giù Per il bastione Giorno e notte Passeggiava Dalle sentinelle E subito pensavi Che sarebbero trascorsi Interi anni E tu Proprio così Ti saresti ancora Avvicinato a guardare Per le fessure Della palizzata E avresti veduto Quello stesso bastione Le stesse sentinelle Lo stesso piccolo lembo Di cielo Non di quel cielo Che sovrasta All'eclusorio Ma di un altro Lontano Libero cielo Quanto sia ovviamente Opprimente La tematica Per me Dostoevsky È sempre casa Quindi Nel gelo Della Siberia Nell'oscurità Della tematica Religiosa Di Dostoevsky Io mi trovo Perfettamente A mio agio E penso che sia Una lettura fantastica Per l'inverno Tra l'altro Se non ricordo male Perché essendo in digitale Non so quante pagine siano Dovrebbe essere anche Un romanzo Relativamente breve Comunque Non Un fratelli Karamazov Per intenderci Insomma Sono 412 Forse no Però Comunque più breve Degli altri romanzi Anche perché Le altre volte Vi ho sempre consigliato Un russo Spesso Dostoevsky E quindi anche questo giro Volevo fare la stessa cosa Ora io vado a provare A dare un po' di volume A sti capelli Che si sono appiattiti Come la Uncefalogramma Ma spero che questo video Vi sia utile Spero che vi sia piaciuto Lasciate qua sotto I vostri consigli Per l'inverno E noi vi prometto Ci rivedremo Prima o poi Sempre ritorneremo L'uscita settimanale Appena mi ripiglio E intanto Vi do un bacione E ci vediamo Al prossimo video Ciao cactus